Siamo in compagnia di Giuseppe Labbato, sottosegretario dell'agricoltura del Movimento 5 Stelle. Allora, l'agricoltura, temi caldi sull'agricoltura, cambiamenti climatici, più la ricerca anche di personale per la raccolta, insomma, dei frutti e della vendemmia. Tanti argomenti e tante questioni. Ce ne può parlare? Sì, con l'esplosione della pandemia dal coronavirus è evidente che sono emersi dei problemi strutturali che vive questo paese da diversi anni e che noi adesso ci troviamo di fronte ad affrontare e a cercare di risolvere, utilizzando specialmente in maniera virtuosa e corretta l'enorme quantità di soldi che saranno stanziati con il recovery fund dall'Unione Europea. Abbiamo un problema legato alla raccolta, alla vendemmia in particolar modo dovuto al fatto che la riesplosione di alcuni focolai anche in Italia ma anche in altri paesi europei mette ovviamente in difficoltà la possibilità di spostarsi da parte di lavoratori che abitualmente ogni anno vengono in Italia proprio per effettuare questo tipo di lavorazione. Mi riferisco in particolar modo agli lavoratori comunitari, quindi polacchi, che raggiungono il nostro paese. Per questo io ho proposto ai colleghi del governo di attivare misure come la quarantina attiva. In molte zone d'Italia i nostri produttori hanno già messo a disposizione e mettono a disposizione già da diversi anni dei complessi per poter ospitare queste persone e quindi in questo modo abbiamo anche la garanzia che queste siano isolate. Quindi fargli un tampone iniziale, fargli lavorare distanziati da altri lavoratori dopo 14 giorni, rifare un doppio tampone per testare la loro negatività al coronavirus, consentirebbe questo di sopperire a questo problema della mancanza di mano d'opera. Molte associazioni in categoria, Confagricoltura, Coldiretti, Luci, insomma, insistono molto su il problema anche dei cambiamenti climatici. Il Movimento 5 Stelle, insomma, dalle sue origini ha posto l'ambiente tra le prime questioni. In Italia cosa si sta facendo? Lei come sottosegretario all'agricoltura, cosa si prevede per l'agricoltura? Questo è un grande problema. Negli ultimi anni lo abbiamo vissuto, tra l'altro proprio ieri c'è stato quel disastro in Veneto che ha colpito il Veneto. Questo è un problema che va affrontato con politiche mirate e in tutto ciò l'Unione Europea ha dato un'indicazione chiara con il Green Deal. Noi però dobbiamo mettere in piedi degli strumenti che consentano ai nostri produttori di poter non perdere tutto il loro reddito e quindi riuscire a dare la possibilità ai nostri produttori di attivare delle polizze assicurative. Molte oggi sono già stipulabili, purtroppo la tendenza vede un maggior numero di polizze sottoscritte nel nord Italia e via via che si scende verso il sud c'è una tendenza a non utilizzare questi strumenti di gestione del rischio. Questo è un problema, dobbiamo far capire ai nostri produttori che invece devono assicurarsi devono creare aggregazione, unirsi in modo tale da riuscire anche con le compagnie assicurative ad avere delle polizze che consentano di tutelare la propria produzione e quindi poi nel caso del disastro climatico riuscire così ad avere un reddito garantito. Tra l'altro il 65% del premio assicurativo viene rimborsato dalla PAC e quindi è un aiuto importante per i nostri produttori. Invece lei è della Puglia, di Castellaneta. La Puglia ha ancora le sue emergenze e per il centro-sud cosa prevede il sottosegretario dell'agricoltura? Io sono di Polignano a Mare precisamente, però sempre in Puglia. Sulla sua scheda è radicato con Castellaneta. Avranno confuso. Sì, ma la Puglia come tutto il sud vive l'eterno problema del grande individualismo da parte dei nostri produttori. Bisogna andare verso una maggiore aggregazione e le regioni devono essere più efficienti nella gestione dei PSR. La mia regione purtroppo è nel disastro del PSR che non consente quindi alle nostre imprese di poter fare investimenti, di poter crescere, di poter essere sempre più efficienti. Per sopperire questo grande problema, ma soprattutto per risolvere il grande problema di accesso al credito che hanno le imprese agricole, abbiamo modificato una norma che ho fortemente voluto all'interno del Curitalia che consente alle imprese agricole di poter accedere in maniera diretta al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Questo che cosa significa? Significa che oggi un'impresa agricola può arrecarsi in banca, avere una garanzia pubblica, la garanzia dello Stato, e quindi così poter ricevere credito per poter effettuare investimenti. È una grande rivoluzione che abbiamo introdotto perché fino ad oggi le imprese agricole potevano solo accedere al fondo di garanzia tramite i confidi che però oramai a livello nazionale sono scomparsi e quindi non riuscivano ad attivare le linee di credito. Oggi la situazione cambia e in più stiamo completando anche questa riforma approvando un emendamento al Senato in fase di conversione del decreto di semplificazioni per esentare dal de minimis l'uso della garanzia. Quindi questo spalancherà definitivamente le porte del credito all'impresa agricola e consentirà agli imprenditori di poter fare investimenti a lunga durata con mutui anche ventennali. Infine abbiamo parlato anche delle criticità ma l'agricoltura italiana ha anche garantissime, è un'eccellenza, ha tantissime potenzialità. Per concludere questa nostra chiacchierata, il suo auspicio sull'agricoltura italiana? Ma noi abbiamo enormi potenzialità, però questo paese ritorna a crescere se noi ritorniamo a creare produttività. La produttività in Italia si è fermata dagli anni 80 per via di politiche economiche completamente sbagliate. Noi dobbiamo ritornare a creare quel valore aggiunto e mettere le imprese tutte, nel nostro caso dato che io sono amministratore delle politiche agricole, rimettere le imprese agricole nelle condizioni di creare valore aggiunto. Ciò significa che dobbiamo intervenire noi su tutti quei fattori che consentono di creare questo valore aggiunto. E quindi mettere in piedi tutte quelle politiche e dare quella contribuzione che serve per aumentare valore aggiunto e quindi per aumentare produttività. Questa è la grande sfida. Se riusciamo a fare questo rimettiamo in piedi il paese. Bene, ringraziamo Giuseppe Labate di Polignanamare. Grazie a voi.